Start, 2, 1, initial mission and liftoff! I giochi di cui parleremo oggi sono Planet of Lana, dei Wishfully, Everspace 2, dei Rockfish Games, che abbiamo già fatto, insomma abbiamo già fatto una live su questo gioco, Lightyear Frontier, dei Framebreak e The Last Case of Benedict Fox, dei Plot Twist. Voglio iniziare parlando di Everspace 2, sviluppato dai Rockfish Games, lo avevamo già portato in passato, come già detto, il gioco si discosta molto, moltissimo da quello che era il primo capitolo, perché in questo caso siamo di fronte a un gioco di ruolo, anziché un roguelike. Per quanto riguarda questo gioco posso dirvi che la sua data ufficiale di uscita in 1.0 è prevista per il 6 di aprile, quindi uscirà finalmente dall'early access, mentre per quanto riguarda invece l'uscita su console, Xbox Series X o Series S, l'uscita è prevista in estate. Tra le features abbiamo visto un ottimo sistema di rarità dei loot, 9 classi di navi, quindi potremmo cambiare la nave, una bella storia da vivere, location suggestive, ci sarà ad esempio anche un pianeta acquatico, quindi scenderemo anche su un pianeta. Il gioco sarà giocabile anche con i joystick e gli otas, grazie anche al fatto che il cockpit è completamente funzionale e vi permetterà di disattivare addirittura l'HOD del gioco, quindi basarvi solo sui dati che vi danno gli schermi del cockpit. Da quanto capito ci saranno anche delle specie di dungeon, che verranno chiamati rift, che saranno completamente configurabili dove scegliete in pratica la difficoltà, cioè la regola d'oro che maggior difficoltà uguale maggior loot. Un altro titolo interessante presentato è Planet of Lana. L'uscita è prevista per la primavera di quest'anno. La storia racconta di una ragazza, abitante di un villaggio che viene assaltato da queste cold machines, così le chiamano, e con lei c'è il suo compagno animale. In questo gioco dovete affrontare numerosi puzzle ambientali, dove la cooperazione tra i due personaggi sarà, penso che è indispensabile. È innegabile che il gioco assomigli a dei giochi, d'altronde lo stesso sviluppatore dichiara di essersi ispirato a giochi come Inside o Limbo, mixati ad uno stile grafico che strizza l'occhio alle animazioni dello studio Ghibli. Per farvi un esempio di quello che sarà il gameplay, il pet della protagonista non sa nuotare, però può ipnotizzare creature che sono in grado di aprire dei passaggi. Potrà addirittura premere delle password plates che apriranno dei portoni che consentiranno alla protagonista di andare avanti e spianare il campo all'altro personaggio. Il gioco sarà disponibile quando uscirà appunto in primavera direttamente dal day one in Game Pass, quindi se avete Game Pass, PC, Xbox, insomma lo avrete disponibile senza spendere nulla oltre all'abbonamento. Ora invece voglio sbilanciarmi sul gioco tra questi quattro che mi ha più incuriosito, e questo è sicuramente The Last Case of Benedict Fox. Esce anch'esso in primavera 2023. Il gioco è fondamentalmente un investigativo dai Tony Dark, Lovecraftiani, dove il protagonista è un investigatore dell'occulto, potrà accedere ed esplorare ricordi delle vittime di questi casi su cui investiga. Ci sarà un hub centrale, che è una casa, con i piani che pian piano si sbloccheranno, come i roguelike in genere, e grazie ai vari NPC che sbloccheremo, sbloccheremo a nostra volta nuove skill, grazie anche ad un tatuatore che ce le tatuerà addosso, quindi vedremo proprio cambiare il nostro personaggio fisicamente, potremo acquistare potenziamenti, oggetti. Avremo un compagno, che però non vedremo perché è una sorta di spirito, e qui la deriva un pochino Lovecraftiana, con questo spirito ultraterreno che commenta con il protagonista. Il gioco uscirà appunto in primavera, Game Pass anche lui al day one, il gioco come vedete è una sorta di natura platform, ma non solo, perché poi ci sono animazioni comunque più elaborate, davvero molto molto interessante. Per finire parliamo invece di Lightyear Frontier, sviluppato da tre studenti, è nato così, come progetto di tre studenti, è un mix di diverse idee, che uniscono un'ambientazione sci-fi, con meccaniche di adventure game, di farming game, con una progressione dai toni molto molto rilassati. Potremo esplorare il pianeta, costruire edifici, raccogliere le risorse grazie al nostro Mac, infatti saremo sempre seduti su questo Mac, sia in diciamo visuale prima persona o terza, potremo potenziare il nostro mezzo per migliorare le capacità di gathering, di scavo e altro. Il gioco sarà sia single player che multiplayer, quindi lo potremo giocare con amici. Il gioco sarà privo di nemici, e da questo la deriva diciamo molto rilassata nel suo proseguio, ma nulla ci vieterà, oltre al coltivare e costruire edifici, anche allo scoprire informazioni sul passato del pianeta su cui ci troviamo. Il gioco uscirà nel 2023 e probabilmente a quanto ho visto sarà in Early Access. Bene, questi sono i quattro giochi che ho visto in questa conferenza di circa quasi due ore, ho visto dei gameplay, insomma adesso io vi riporto delle immagini che ci hanno autorizzato diciamo a portare, aspettiamo durante quest'anno perché vabbè uno l'ha ben già portato, gli altri tre sono veramente curioso di vederli, vedere quando usciranno e spero ci sarà appunto la possibilità di portarli in video. Fatemi sapere anche voi la vostra opinione su cosa ne pensate rispetto a questi quattro giochi e lasciatemi un commento qua sotto, io ringrazio ancora IDXbox per l'immensa grandissima opportunità ricevuta e con questo vi saluto, alla prossima e ciao ciao!